Questo è il mese e dico il mese perché ci sono stati un po' di versioni sulla data esatta. C'è chi dice che è il 4 di settembre, in questo caso superato, c'è chi dice che è il 27, in questo caso siamo in anticipo. Noi per non far male a nessuno abbiamo deciso di farlo comunque nel mese in cui si festeggia il 25esimo anno di Google, del motore di ricerca Google. A seconda se si parte dalla istituzione della società oppure dalla messa online, insomma, comunque settembre è il mese in cui lo stesso motore di ricerca festeggia il suo 25esimo anno di vita. Sono 25 anni di ricerche in rete che si sono evolute e adesso ne parliamo, insomma, ne parliamo con Alessandro Longo, direttore di AgendaDigitale.eu. Ciao Alessandro, bentrovato. Buongiorno. E partiamo alti con il docente di sociologia dei media all'Università di Catania, professor Davide Bennato. Professore, perché dico partiamo alti? Professore, buon pomeriggio. Perché sono 25 anni di ricerche, 25 anni in cui sappiamo che possiamo, che abbiamo accesso a molte informazioni che prima bisognava andarsi a cercare, impiegando più tempo, più risorse per conoscere. Se non sbaglio, Umberto Eco diceva che in futuro, e già ci siamo dentro, la conoscenza non si misurerà in base a quante cose sai, ma a quanto tempo ci metti per saperle. In questo caso, in questi 25 anni, abbiamo segnato il miglior tempo, tipo Formula 1, credo, perché ormai qualsiasi cosa è lì. Non solo, diciamo così che da questo punto di vista Google ha avuto un ruolo straordinario. Per prima cosa ha inventato, diciamo così che ha formalizzato la categoria dei motori di ricerca, mentre prima c'era un sacco di competitor di Google che però non erano riusciti non solo a sviluppare le tecnologie rapide che ha utilizzato Google come suo algoritmo, PageRank, per sviluppare, per cercare queste informazioni, ma anche il format per intendersi, cioè in che modo dare queste informazioni, derogare queste informazioni, perché prima i motori di ricerca, prima di Google, erano dei portali, davano informazioni dettagliate. Penso per esempio a Yahoo, che dava anche le informazioni di tipo giornalistico. Quindi sicuramente questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che le nostre ricerche sono anche diventate uno strumento per cambiare meglio cosa noi siamo. Infatti non è un caso che Google con i suoi servizi, ma non solo Google, raccoglie le ricerche che noi facciamo sia da un punto di vista per aumentare le performance, quindi le qualità di raccolta dei risultati dei motori di ricerca, ma soprattutto anche per capire sostanzialmente noi cosa andiamo a cercare, quale informazioni stiamo cercando e per quale motivo cerchiamo quelle informazioni. Quindi c'è stato da questo punto di vista uno scambio. Da un lato un servizio che ha permesso di cercare online le informazioni nel modo più efficiente, ma soprattutto più pertinente possibile, ma dall'altro anche il fatto che noi stessi abbiamo lasciato sottolineare le informazioni per capire meglio chi siamo e come ci orientiamo all'interno delle piattaforme digitali. Su questo, professore, com'è una riflessione da fare? Poi vado ad Alessandro per cercare di capire anche i progressi fatti in questi 25 anni, perché sono cambiate anche le ricerche, come le facevamo 25 anni fa rispetto a come le facciamo oggi. Oggi Google ci legge quasi nel pensiero. Professore, la generazione Google, quali sono le conseguenze di una generazione che sa che tanto ha accesso a tutto quel che vuole in un attimo e non ha bisogno di immagazzinare le informazioni, di farle proprie come in qualche modo anche hanno fatto le generazioni precedenti? Secondo me ci sono state tre, diciamo così, tre diverse generazioni che si sono confrontate in questi 25 anni all'utilizzo di una piattaforma come Google. In primo luogo c'è la prima generazione, cioè a cui io fondamentalmente appartengo, quando si è visto arrivare questo motore di ricerca, io lo ricordo ancora quando si chiamava stanford.google.edu, cioè quando ancora il dominio era quello dell'Università di Stanford, e noi per esempio cominciamo ad imparare soprattutto come fare le ricerche boleane cosiddette, cioè mettere insieme più parole utilizzando gli operatori che fossero logici, quindi che permettevano di avere una ricerca molto dettagliata e molto precisa. Poi è arrivata la generazione, a partire dal 2005-2008, la generazione che invece ha cominciato a mettere semplicemente le parole chiave, le keyword, le query, cioè semplicemente piccole espressioni di testo, perché sapeva perfettamente che il motore di ricerca avrebbe capito quale sarebbe stata la richiesta di informazioni. Per poi arrivare all'ultima generazione, quella di adesso, che invece molto spesso scrive anche in maniera sgrammaticata per cercare informazioni, Google è molto bravo a ricostruire la pertinenza dell'informazione. Questo fa capire sostanzialmente che è cambiato anche il nostro approccio nei confronti delle tecnologie. La generazione a cui appartengo io considera le tecnologie come un'estensione delle nostre competenze, delle nostre capacità, cioè un modo migliore per fare delle cose che comunque sapevamo fare, controllare le fonti, cercare le informazioni. Adesso invece le generazioni più recenti, la generazione Z in particolare, lo utilizza considerando semplicemente come un tool, cioè uno strumento che mi permette di fare delle cose, quindi non ho necessariamente bisogno di sapere come funziona, perché tanto, diciamo così, se ho dei dubbi, sarà lo strumento che mi aiuterà a fugarlo. Quindi questo è un po' quello che è cambiato della percezione, diciamo così, della dimensione antropologica dell'utilizzo della piattaforma digitale come il motore di ricerca. Alessandro, le ricerche di 25 anni fa... Professore, come è cambiato anche il nostro modo di scrivere, non dico di pensare, perché poi è nato il linguaggio per tutto ciò che viveva online, in funzione della ricerca, quindi con le parole chiave, con una scrittura precisa che bisogna imparare, che spesso viene utilizzata anche dai mezzi di informazione, cioè dei pezzi scritti per poter essere indicizzati meglio. Sì, diciamo così, questa è la croce edilizia della capacità di costruire test all'interno degli spazi digitali, cioè quello di avere una scrittura che sia SEO compatibile, cioè Search Engine Optimization, che sia in grado di venire incontro alle esigenze di classificazione delle informazioni che hanno i motore di ricerca, e ogni motore di ricerca ha il suo sistema di classificazione, quindi noi attualmente utilizziamo Google, ma in realtà potrebbero essere anche altri motori di ricerca che hanno bisogno di regole diverse. Quello che è successo è che si è creato una specie di via di mezzo, cioè nelle origini delle prime applicazioni, sicuramente la SEO era molto rigide, quindi bisognava scrivere i titoli in un certo modo, gli articoli in un certo modo. Adesso le cose sono più morbide, nel senso che Google è diventato molto più raffinato e quindi si è cominciato a utilizzare anche in maniera più attiva anche testi che potrebbero essere più creativi o comunque che potrebbero avere non quelle proprietà di indicizzazione netta che qualche tempo fa i motori come Google necessitavano. Poi ovviamente all'orizzonte c'è la questione dell'intelligenza artificiale, ormai tutte le piattaforme, soprattutto i motori di ricerca, stanno cominciando a utilizzare sistematicamente strumenti di intelligenza artificiale che proprio lavorando, masticando in maniera molto creativa ma soprattutto molto analitica grandissime fonti di linguaggio e di testi sono sempre più brave a riconoscere l'ironia, a riconoscere il gioco di parole, quindi la scrittura all'interno della rete è tornata ad essere per certi versi creativa e questa creatività non è a discapito della capacità di trovare queste informazioni. Alessandro, 25 anni, c'è qualcosa in questi 25 anni di rivoluzione pazzesca che avrebbe voluto vedere differente? Caspita, la domanda delle cento pistole. Allora, diciamo che la cosa, parlando da sociologo, quindi capisco un po' l'evoluzione di come sono cambiate la cultura e l'economia e la società contemporanea, quello che avrei voluto vedere diversamente è non una contrapposizione netta fra i contenuti pubblici e i contenuti privati, cioè i contenuti gestiti in maniera privata dalle grandi multinazionali delle tecnologie e i contenuti invece pubblici che noi tutti introduciamo anche attraverso piattaforme non necessariamente commerciali o attraverso il mondo dell'open source. Ecco, questa secondo me è il vero, e sarà anche la vera sfida, è il vero scontro dei prossimi anni, cioè creare uno spazio internet in cui possono coesistere entrambe le visioni, cioè una visione commerciale e una visione sicuramente pubblica e democratica, ma senza che questi due ambiti siano necessariamente in contrapposizione e lo penso per le grandi rivoluzioni tecnologiche che ci saranno, penso all'intelligenza artificiale oppure penso all'arrivo delle tecnologie digitali immersive come il metaverso, quindi se io quello che avrei voluto vedere è una presenza maggiore della cultura e dell'ideologia open source rispetto a questo ambito in cui i dati sono diventati sostanzialmente una nuova fonte di profitto. Condivisibile. Allora, professore, grazie. Un'ultimissima domanda alla tecnica la faccio ad Alessandro.